ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere lo vedete sullo sfondo sono arrivate anche in italia le card dedicate alla wefa nations league le finals della tops in questo video ci andremo ad aprire lo starter pack come leggete qui edizione italiana onestamente non so ancora se ci sono differenze con le versioni uscite nel resto d'europa lo andremo a scoprire presto o comunque in questo periodo andremo ad aprirci anche l'eco value box eccolo qui 25 card all'interno è una card in edizione limitata e un paio di pacchetti che ho acquistato dal box da 24 prima di partire con questo spacchettamento però vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like al video detto questo facciamo un po di spazio e partiamo subito con lo starter pack 8 euro e 99 per lo starter pack all'interno troviamo due pacchetti il raccoglitore il magazine con la checklist e la plancia di gioco poi ci sono un po di informazioni sulle card che possiamo trovare all'interno queste erano le informazioni principali adesso ci andiamo a vedere il contenuto dello starter pack partiamo subito con il raccoglitore completamente schiacciato quindi lo dovremo andare a riformare i numeretti da attaccare non sono ancora stati messi eccolo qui il raccoglitore in versione small dovremmo farcela questo giro poi ci sono la copertina e il retro della copertina eccolo qui all'interno ovviamente abbiamo l'intera checklist poi abbiamo la guida oltre alla plancia di gioco che mettiamo da parte mentre la guida la teniamo i due pacchetti eccoli qui dobbiamo andare a scoprire un po quanti sono gli artwork sicuramente io ne avevo due e sono usciti gli stessi quindi spero che ne siano due allora homegrown hero limited edition potrebbe essere questa la differenza con le altre versioni limited edition è giorgio chiellini mentre la limited edition che si trova in tutti gli starter pack a livello europeo a questo punto è erling haaland eccole qua le prime due limited edition sono la numero uno e la limited edition con il nome di giorgio chiellini andremo a scoprire poi quante ne sono e le mettiamo da parte messi da parte anche i pacchetti ci andiamo a vedere la guida al gioco le carte da collezionare lo leggiamo sul retro dei pacchetti ne sono esattamente 224 ovviamente oltre a tutte le card speciali e le parallele allora qua ci dà le regole del gioco però a noi interessa questo numero 150 sono le carte base da collezionare è il set base pieno di alcuni dei giocatori più grandi nomi allora in questa parte della della raccolta si trovano i giocatori compresi tra la posizione 101 e 51 secondo una classifica definita e in più troviamo anche 99 international stars con tutti i giocatori più forti della d'europa poi abbiamo le carte mirror foil eccole qui sono 32 da collezionare andiamo avanti ci sono altre 32 carte e sono le foil arcobaleno le vediamo qui abbiamo alcuni esempi come bernardo silva andy robertson e young player to watch in più in questa sezione ci sono anche i giocatori dalla 19 alla 1 quindi abbiamo i giocatori dalla 19 alla 1 un set speciale di 13 giocatori giovani in più arri per arrivare a completare i 32 nelle 32 mirror foil invece c'erano i giocatori compresi tra la cinquantesima e la ventesima posizione abbiamo anche un set di carte parallele lo leggiamo qui andiamo a vedere più da vicino allora ci sono 150 carte base e queste sono disponibili uno ogni tre pacchetti sono in stile crystal e sono foil blu poi ci sono le 32 carte mirror foil si trovano una ogni quattro pacchetti e hanno uno stile foil verde mentre le 32 carte foil arcobaleno hanno uno stile foil viola e si trovano una ogni sei pacchetti beh non proprio semplicissime da trovare in questa sezione è spiegato quante sono le carte limited edition che si trovano in versione oro sono 10 dalla 1 alla 10 noi abbiamo già trovato nello starter pack holland poi ci sono levandoschi varanco che luca cuvandic gniabri grillis bale e silva infatti non abbiamo trovato giorgio chiellini andiamo avanti queste 9 si possono trovare in modo casuale nei vari prodotti poi abbiamo una lista degli altri prodotti ci sono tre mini team 2 team box un po più grande in queste ci sono delle carte in edizione limitata speciali che scopriremo più avanti e poi una sezione dedicata alle carte più rare ci sono le carte ultra rare e sono le carte autografate dai giocatori sono 10 carte da trovare e altre 10 che sono considerate carte rare queste carte rare sono 1 ogni 24 pacchetti mentre le carte ultra rare non c'è scritto ogni quanti pacchetti si trovano però non è tra le cose più semplici 1 ogni 24 anche le chrome shield sono 10 da collezionare ancora una volta sono a forma di scudo quindi dopo le match attacks le match attacks extra anche per la raccolta road to uefa nations league finals avremo le carte chrome shield in versione scudetto novità assoluta le 8 carte reliquia moneta quindi sono carte reliquia con al centro una moneta delle finals novità esclusiva si trovano una ogni 32 mega team eccola qui lo troviamo scritto qui quindi ogni carta può essere trovata solo esclusivamente a quanto pare nelle mega team una ogni 32 mega team a terminare abbiamo una panoramica su tutti i prodotti ma a questo punto credo che ci andremo ad aprire i nostri pacchettini abbiamo visto le prime due carte limited edition andiamo a recuperare anche le carte della dell'eco box allora qui si trova la carta limited edition che ci andiamo ad aprire subito partiamo subito con il primo pacchetto ed eccola qua la carta limited edition numero 5 è romelu lokaku attenzione attenzione subito al primo pacchetto abbiamo trovato lo scudo di patrick chic ragazzi primo pacchetto in assoluto aperto eccolo qui lo scudo di patrick chic uno dei dieci scudi l'abbiamo trovato solo in versione gigante a questo giro poi vediamo un po altre tre carte abbiamo forsberg diego jota e emil smith roo young player uno dei dei 13 young player a questo punto andiamoci a aprire anche gli altri pacchetti primo pacchetto è questo con ibrahimovic al centro adesso quindi ho trovato un terzo artwork che partenza che partenza fantastica allora noi intanto andiamo avanti vediamo un po sono tutte girate allora abbiamo zaccaria international star forsberg ancora international star e mare camsic da burr mark waltz milenkovich poi abbiamo axel witzel una parallele terni della scozia poi abbiamo altre due carte fuori sono a dei emi e griezmann beh non male nemmeno questo pacchetto andiamo avanti secondo artwork da aprire allora abbiamo international star e carer e ionisti per la norvegia upamecano alip novicox poi abbiamo per il belgio azar kovacic e poi abbiamo milenkovich milenkovich savic bruno fernandez guardate qua che bellezza queste carte bruno fernandez e poi abbiamo trovato young player carima dei emi rezi è una parallela viola una ogni sei pacchetti si trovava eccola qui l'abbiamo già trovata in versione base guardate qui l'abbiamo trovata subito una parallela viola non male ci andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto per questo video quindi con l'artwork di ronaldo andiamo a vedere che troviamo visto un'altra parallela abbiamo aspelicheta international star e ben davis inter egger per l'austria per la macedona heavy helmas hosberg per la danimarca rui patricio poi abbiamo dunfriss meso mount e una parallela green e leonardo spinazzola questa è una di quelle che si trova ogni quattro pacchetti e a terminare abbiamo trovato young player to watch anche gavi quindi abbiamo trovato ricapitolando sia la crystal parallela 1 su 3 sia la crystal parallela 1 su 4 che la crystal parallela 1 su 6 oltre al colpo del video eccolo qui lo scudo di patrick chic per oggi termina qui questo video ragazzi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa collezione un primo sguardo mi dice che sarà una collezione veramente veramente molto bella interessante ma fatemi sapere se anche voi pensate di iniziarla di portarla al termine chi cercate qualche giocatore in particolare ragazzi vi aspetto nei commenti e come sempre prima di salutarvi però vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video le novità che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like al video detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao